Gentili telespettatori, buona giornata. Sul caso Juventus, in questi giorni stiamo passando dal caso Soumaoro, fatture false e truffe ai danni dello Stato, stiamo passando al caso Juventus. Altro ambito, si parla di pallone, ma anche qui si parla di truffe ai danni dello Stato, fatturazione false, nero, eccetera, eccetera. Il Consiglio di amministrazione va verso il processo perché a giorni arriverà la richiesta di rinvio a giudizio per diversi esponenti del Consiglio di amministrazione della società della Juventus. Intanto al centro delle indagini perquisizioni telefonate e lettere, all'Atalanta dobbiamo 6-7 milioni nelle intercettazioni telefoniche degli organi inquirenti. Ormai siamo a un anno dalle prime perquisizioni della Guardia di Finanza di Torino, mentre la Procura della Repubblica di Torino, che ha aperto le indagini con i giudici istruttori, ritiene di avere tutti gli elementi per chiedere il rinvio a giudizio. Cosa vuol dire il rinvio a giudizio? Processo contro tutti i dirigenti, quasi tutti i dirigenti della Juventus e anche il Presidente dimissionario e il Vice Presidente e l'amministratore delegato e il capo dell'ufficio legale. Insomma, tutto il vertice della Juventus sarà a processo. Le inchieste, coordinata dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai pubblici ministeri Mario Bendoni e Ciro Santoriello, ipotizza bilanci truccati, cioè falsi bilanci. Plusvalenze artificiali, false fatturazioni e manovre stipendi sul pagamento posticipato dei calciatori fuori dal bilancio. Sono reati questi, non furberie ma reati, che avrebbero potuto essere reiterati nel bilancio 2021-2022 se fosse stato approvato. Azzeramento del CDA, ma ormai il dado è tratto, la procura. Partiranno con gli avvisi di processo, chiamiamoli così, avvisi di garanzia. Intanto la procura ha deciso di rinunciare all'appello del riesame con cui chiedeva misure interdittive per gli intagati. Nel bilancio non sarebbero ancora inserite 34 milioni derivanti dalla seconda manovra stipendi, una sorta di problema sulla regolarità del documento contabile. Oltre alla metà di questa cifra, 19,9 milioni di euro sarebbe nella famosa carta segreta firmata con Ronaldo, che ora pare intenzionato a chiederne il pagamento. La carta che non doveva esistere secondo l'intercettazione ormai famosa, se salta fuori ci saltano alla gora su tutto il bilancio. I revisori, è tutto, dice Cesare Gabasio, legale rappresentante del club. Per poi aggiungere, poi va a finire che ci tocca fare una transazione finta, transazione che fino ad ora non sarebbe avvenuta. Ma il solo pensiero di risolvere così la questione per i pubblici ministeri dimostrerebbe il dolo dell'operazione. Intanto nel corso delle perquisizioni queste non sarebbero le uniche cose saltate fuori. Ce ne sono altre che la procura per il momento non ha reso pubblico. Documenti sequestrati sono stati tantissimi. Ci sono testimonianze. Debiti fuori bilancio. Si parlava nelle intercettazioni tra i 6 e i 7 milioni di euro di debiti con l'Atalanta, che non sono mai stati scritti nel bilancio. Ecco, si parla in una mail del 10 luglio 2020 di debiti residui non contabilizzati, pari a 30 milioni più agenti. Quindi l'Atalanta avrebbe debiti, però c'era scritto solo 3 milioni e mezzo, invece sarebbero 6-7 milioni. In un'altra intercettazione telefonica arriva bene, che mi sa che non è arrivato proprio bene, ammetterebbe sappiamo cosa gli dobbiamo all'Atalanta. Quindi una cosa è quello che c'è nel bilancio, una cosa è quello che c'è in alcune carte, una cosa è la realtà. 6-7 milioni di debiti all'Atalanta che non ci sono nel bilancio e che da altre parti si commenta di 3 milioni e mezzo. Quindi capite che ci sono diversi e tanti punti oscuri o anomalie presunte nelle quali si sta accertando. O stranezze emerse sulle plusvalenze che inducono gli investigatori a parlare di side letter anche in questo filone investigativo. E poi c'è il filone dei riacquisti di calciatori ceduti in prestito con obbligo di riscatto. Beh, Alberto Cerri al Cagliari nel 2018, che avrebbe fruttato una plusvalenza di 8 milioni, parallelamente all'obbligo di riscatto ci sarebbe una mail del 12 luglio che garantisce al club torinese il riacquisto. In pratica, secondo gli investigatori, la plusvalenza non avrebbe dovuto essere iscritta a bilancio. Quindi ci sono dei falsi contabili per fare il bilancio. Insomma, dove ci si gira ci si gira, si trovano truffe, 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 fatture false, truffe ai danni dello Stato. E realmente viviamo nel mondo del denaro, del dio denaro, tutto viene fatto per i soldi, l'unica morale, tutto è indirizzato al denaro e ovviamente quando la meta principale è il denaro e il successo, naturalmente come mondo è mondo, si cerca di arrivare al denaro in tutti i modi, soprattutto anche illeciti. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, qui su Teleitalia e poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete che è l'altro canale, video di politica, notizie fai da te, e poi ci sono anche i due canali di mia moglie in cucina con Carla, Carla con la K e tutorial uncinetto con Carla, sempre Carla con la K. Arrivederci a tutti.